Osso buco alla milanese, tanto buono e così tenero che non vi servirà il coltello per tagliarlo. Salire Il coltello di acqua Non lo so, solo per la cucina E' un pollo, molto buono E' un pollo 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 E' ma Koch E' un pollo E' un pollo E' un pollo Il nostro interesse E' un pollo Siamo Invecezboat ned Ma textbook Pallola Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.